Conto alla rovescia in vista dell'arrivo al partenio Lombardi del Frosinone sta per terminare. Sabato alle 15 l'Avelino affronta i Ciociari nella gara valevole per la quinta giornata di ritorno del campionato di Serie B in una sfida d'alta quota. Biancoverdi quarti a quota 39 punti e Ciociari quinti a 38 sono reduci da successi pesanti. I Lupi hanno centrato la seconda vittoria di fila piegando in casillatina dopo aver sbancato il picco di La Spezia. Al Matuse e Gialloazzurri hanno rimontato la Virtus Lanciano e sono tornati a portare a casa l'intera posta in palio dopo tre turni di digiuno. Una sfida playoff da vivere tutta ad un fiato con due importanti assenze per squalifica per parte. L'Avelino dovrà fare a meno di Chiose Comi, il Frosinone di Gucker e Dionisi. Nella penultima seduta settimanale di allenamento in programma questo pomeriggio alle 15 a porte chiuse al Sibila di Torrette di Mercogliano, Rastelli continuerà a valutare come sostituire i due assenti e dopo aver incassato nella giornata di ieri il rientro in gruppo di regoli dopo l'attacco febbrile che gli ha impedito di lavorare con i compagni di squadra lunedì e martedì, avrà modo di valutare le condizioni di Schiavon alle prese con un problema muscolare al polpaccio sinistro. Giudice sportivo e condizioni fisiche, due tra i fattori che determineranno la scelta del modulo e ballottaggio tra 3-5-2 e 4-3-1-2. Fabbro, Cone, Sbaffo e Trotta scalpitano per una maglia da titolare.